Nell'ultimo consiglio direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, tenutosi su piattaforma digitale, abbiamo approvato una delibera che prevede l'esonero del pagamento dei diritti e oneri per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività nelle aree marine protette gestite dall'ente parco per l'anno 2020. Queste le dichiarazioni del presidente Tommaso Pellegrino, che ha aggiunto ci siamo impegnati anche ad elaborare un piano di interventi finalizzato alla ripartenza delle attività all'interno dell'area parco attraverso investimenti diretti dell'ente per aiutare gli operatori economici di settore particolarmente strategici per la finalità del parco.